È tutto il giorno che ti aspetto. Quando comandavo io le donne stavano a casa e l'uomo sono andato a far mazzo. Per fortuna i tempi sono cambiati. Io ho capito che insieme a Bona sono per la vastira e tirare sui figli. Di lui chi si occupa? Lei. Ci poteva arrivare da solo che Spadino non era capace adatte a maschio. Spadino è stato buono a dommene tante cose. Prima hai tutto il rispetto, secondo poi il potere. Mica poco a me. Quanto sei bella non c'è? T'ho lasciato che eri una piscala e ti ritrovo che sei una donna. E mo' sta donna se ne va a festeggiare con suo marito tutti i successi che hanno raggiunto insieme. Un vero peccato che non ci puoi venire a vedere.